I don't know In 10 minutes I'll be late for the door Grazie a tutti, innanzitutto complimenti all'organizzazione di questo festival di cortometraggio perché è in realtà il primo festival dedicato realmente al cortometraggio Ribelle e penso a Jerry Buccolini con la scelta dei cortometraggi che ha fatto lui e il suo staff e quelli che vedrete premiati questa sera ne ha dato ampie dimostrazioni Complimenti a Tutto Sacrofano per l'ambientazione, il paese, la città che ha degli scorci bellissimi e si mangia tra l'altro il mese, vero Pino? Ti ha appunto a assaporare i gusti del... Ma sai...